Già prima di aver saputo della sua vittoria, certo che l'ha conquistata come è stato, Vladimir Putin si è regato, o meglio arrivato nel parco del concerto organizzato al Trevino, nella famosa Piazza Rossa di Mosca, per andare a celebrare il decimo anniversario della missione della Crimea da parte della Russia. Un evento cerimoniale che è stato anche l'occasione di otta per andare a festeggiare le elezioni di lui stesso, che ha, vi ricordo, ottenuto più, non l'87%, ma più del 87% dei voti raggiunti e dei voti ottenuti nelle elezioni presidenziali della Russia proprio, un paese che l'ho visto nascere, crescere e svilupparsi a livello, chiamiamolo, politico. Vi ringrazio per l'ascolto, Putin, già ve l'ho detto in altri video, è un dittatore, non è un personaggio così dolce e buono che può apparire, è un dittatore vero e proprio. iscriviti in commentario, una buona giornata e un nuovo video.